se hai bisogno di soldi o una giunta dell'axo o completi modati non esitare a contattarmi iscriviti a tutti i miei gruppi telegram next gen e all gen ragazzi iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da ps in descrizione trovate i gruppi anche per playstation e adesso al nuovo video bentornati raga qua è savix che vi parla oggi settimana numero due ragazzi quindi con una nuova gara di valentina ragazzi vi lascio in descrizione il link per scaricarla vi ricordo che parliamo solo di cta next gen e adesso vi lascio alla gara bella raga ciao 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 ciao